Applicazione smalto tradizionale di ArtWare Per prima cosa andiamo a sgrassare il piatto ungueale da eventuali residui di oli, creme o lozioni Il primo passaggio fondamentale è la stesura della base Partite sempre dalla punta e risalite gradualmente verso la cuticola In modo che la vostra stesura risulti perfetta ed omogenea Ricordatevi che un passaggio fondamentale è eseguire la sigillatura della punta Questo permetterà di dare forza e struttura alla parte del margine distale Ovvero la punta dove c'è più manualità Grazie a tutti Ora applichiamo il colore scelto dalla nostra cliente Uno dei passaggi fondamentali è tenere sempre ben pulito il nostro bastoncino di plastica dello smalto In modo da non avere prodotto che continua a colare verso la setola La prima stesura non è fondamentale che sia perfetta In quanto con la seconda stesura andremo a rifinire il nostro lavoro Importantissimo è applicare strati sottili e non esageratamente corposi Per evitare tempi di asciugatura lunghi ed inutili Anche in questa operazione eseguite la sigillatura della punta Anche in questa operazione eseguite la sigillatura della punta Anche in questa operazione eseguite la sigillatura della punta Proseguiamo ora con la seconda stesura di colore. Grazie a tutti. Applicazione dell'ultimo passaggio del top o lucido finale. Applichiamo il prodotto come abbiamo fatto finora con gli strati successivi, ricordandosi che la sigillatura finale sarà quella che ci preserva lungo il lavoro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.